Torna il sereno in Via Parini dopo i momenti di panico e terrore visuti ieri intorno alle 17 quando un giovane brasiliano è stato aggredito a scopo di rapina sotto i portici e nel tentativo di difendersi è stato accoltellato ad un fianco. Poca voglia di parlare stamani da parte dei commercianti della zona che a microfoni spenti si limitano a segnalare una situazione di grave pericolo in quella zona frequentata spesso da sbandati e senza tetto. Intanto sul fronte delle indagini il cerchio si è definitivamente chiuso su un diciottenne di nazionalità tunisina unico e indiziato. Si era parlato inizialmente di due persone. Il giovane è stato rintracciato dagli uomini delle volanti guidate da Pierpaolo Barrasso al terminal bus e portato in questura per lui l'accusa di rapina aggravata. Intanto la vittima fortunatamente è stata colpita solo superficialmente ed è stata già dimessa dall'ospedale. Ancora vivo negli occhi della gente il terribile fatto di cronaca che ha visto vittima il giovane Cristofor Luciani e l'episodio di ieri pomeriggio in pieno centro, soprattutto per chi era presente, ha fatto riemergere una certa angoscia e preoccupazione. Ho visto tante pattuglie della polizia e come mi sono avvicinato ho visto un ragazzo che stava sanguinante a terra, altri due o tre ragazzi che stavano lì con le mani sporche di sangue e ho visto che la polizia è intervenuta tempastivamente, dopo pochissimi attimi è arrivato anche l'ambulanza che ha soccorso il ferito che stava agonizzando per terra, che sanguinava e niente, stavo lì a guardare, ho visto. Pescara non è più un'isola felice, non lo è già da un bel po', lo sa bene Domenico, lui stesso vittima di uno degli episodi di cronaca più drammatici degli ultimi dieci anni, l'uccisione del padre in una domenica d'estate al parco di Villa dei Risis. C'è questo precedente drammatico che ha vissuto la tua famiglia, insomma queste cose vi toccano ancora di più? Sì, sì, ci toccano molto, anzi io faccio un complimento agli organi della polizia che sono arrivati tempestivamente e ho saputo stamattina tramite i giornali che hanno già trovato i colpevoli di questo fatto. In più faccio un appello sia al prefetto che al questore di veramente disetacciare la città di Pescara con più sicurezza perché veramente a Pescara si comincia a avere un po' di paura.